Il censimento permanente torna sui banchi di scuola. Riparte la sfida a colpi di statistica per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Dopo il successo dell'edizione 2019, l'iniziativa promossa dall'Istat e dal Ministero dell'Istruzione si arricchisce di contenuti, giochi e competizioni e un nuovo concorso creativo in cui gli studenti di tutta Italia racconteranno il loro territorio attraverso numeri e statistiche, ancora una volta con il prezioso aiuto di Pop.